Cominciò a novembre di 30 anni fa l'avventura della cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali e dopo 30 anni di servizio alla persona e di presenza sul territorio, la cooperativa è ancora qui. Partita con 9 dipendenti, oggi ne conta 140. Nella sua grande responsabilità sociale accompagna e sostiene i minori, gli anziani e i disabili. Una tappa importante che non può passare inosservata, spiega la Presidente Candida D'Abbate. Ci sentiamo parte integrante di questo territorio anche sotto il profilo lavorativo ed economico. Abbiamo passato i 30 anni da un pomeriggio di novembre in cui abbiamo costituito la cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali e io sono appunto una socia fondatrice che poi ha nel tempo permesso alla stessa di aumentare il proprio numero sia di soci che di lavoratori. È stato un percorso molto lungo e faticoso, lo voglio veramente dire, perché far nascere una cooperativa è una cosa abbastanza facile. Fare in modo che questa resti sul campo, su un territorio e anche su altri territori dove noi stiamo per tanti anni è una cosa veramente complicata. Mi piace pensare che questa cooperativa è nata quando ancora si scriveva con carta e penna e adesso invece è tutto informatizzato, viaggia tutto online. In una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore alle politiche sociali del Comune di Sulmona, Enza Gian Antonio, e il Presidente del Consiglio Comunale, Franco Casciani, la cooperativa ha spiegato come intende celebrare questo importante compleanno. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, vigilia della giornata nazionale degli alberi. Sarà infatti piantato per l'occasione un bosco felice nell'asilo nido Isola Felice, un grande progetto di educazione ambientale, uno spazio che famiglie, bambini e cittadini potranno coltivare. La realizzazione di un bosco all'interno di una città completamente cementata è una risorsa importante. La parte predominante sarà caratterizzata dalla presenza di alberi d'alto fusto, che sono alberi da frutto. L'altra parte predominante di questo progetto sarà la realizzazione di uno stagno. Abbiamo sposato con immenso piacere questa iniziativa del bosco felice presso l'asilo nido Isola Felice, proprio perché abbiamo un pensiero pedagogico che vede le attività intese come attività laboratoriali. Il 12 dicembre poi nel Soul Kitchen sarà allestito un work café su tre tavoli, anziani, disabili e minori, da cui emergeranno proposte da presentare al comune. Il 10 dicembre nella stessa location si svolgerà uno spettacolo teatrale con i giovani con la sindrome di Down, un evento che conoscerà la collaborazione dell'Anfas e di Alessandro Lucci. E oggi i dipendenti della Nuova Orizzonti sono arrivati da Casciani e dell'assessore Gian Antonio. Questa città ha bisogno di gente che lavora bene, hanno detto, e la cooperativa in questione è fonte di ricchezza sociale per la comunità.